Sesta giornata d'andata del campionato di Serie C femminile, l'Atletico Cefalù ospita lo Sporting Alcamo, si gioca al campo Calamica, l'arbitro dell'incontro è il signor Lupo di Palermo. La squadra dell'Atletico Cefalù ha la maglia azzurra, lo Sporting di Alcamo invece la maglia rosso Granata. Vediamo le azioni più interessanti della partita. Tira, tira! 12esimo minuto, rete di Aluzzo, Atletico Cefalù 0, Sporting Alcamo 1. 25esimo minuto, rete di Vuturo dell'Atletico Cefalù, risultato Cefalù 1, Alcamo 1. Tira, 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 tira! Tira, 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 tira! Terzo minuto del secondo tempo, rete di Aluzzo, Atletico Cefalù 1, Sporting Alcamo 2. Ottavo minuto del secondo tempo, terza rete di Aluzzo, tripletta, risultato Cefalù 1, Atletico 3. Tira, 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 tira! Buona bella! 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 Buona bella!